Date il benvenuto sul palco all'inimitabile Magic Mike Uno strip da primato, Magic Mike il film di Steven Soderbergh è incentrato su un gruppo di spogliarellisti si porta subito in betta al botteghino italiano con 1.326.795 euro e la migliore media per copia bastano per scavalcare Prometheus scivolato al secondo posto perdono una posizione anche ribelle The Brave terzo e Madagascar quarto debutta al quinto posto la satira politica Stelle Strisce di candidato a sorpresa mentre tra le novità dello scorso weekend a conquistare la top 10 troviamo il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni settimo The Wolves nono e i bambini di Cold Rock decimo in mezzo il Cavaliero Scuro e il ritorno in sesta posizione cosa aspettarsi quando si aspetta ottavo solo undicesimo una donna per la vita addirittura diciannovesimo il Doc Woody dedicato ad Allen l'acceivement che mi faccio è provare a fare un grande film che mi ha eludato durante le decenze scoles Cathy scoliver il film 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 film